Ciao, ciao, ciao! Oggi non è neanche il nove, 31 maggio, un buono noto a lei. A Friarà, fuori orario, 12 ore in nostra audizione, fino a 8 da mattina se balla se balla molto, molto e se balla molto fino a 8 da mattina perché oggi è un giorno speciale il giorno che cierra la insonnia la ultima notte la ultima musica è un giorno speciale se vuoi fare con me molto, ma se vuoi fare 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 state ascoltando è una produzione di Mario Più di Vizcazio e Franchino di Vizcazio Quoco. Quoco nel cervello. Quoco. Ti voglio. Non è un esagerato. Questo è Mario Pio, il console. Non è un esagerato. Non è un esagerato. Non è un esagerato. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. Mario, fagliela scivolare. Fagliela scivolare dentro. Ti piace, eh? Te la senti scivolare piano piano. Ti piace, vero? Ah, mi fai male. Vamo la sentire, da. Se non hai il collirio, ti devi mettere gli occhiali scuri, perché hai gli occhi rossi. Non tiacchia, però non tiacchia. Non tiacchia, non tiacchia Nella si fai messa, non tiacchia, perché hai gli occhi rossi. Non tiacchia, non tiacchia, ma neacchia. mio sangue. Mario Pio e Franchino. Fire, fuoco, solamente fuoco. Fire dentro il tuo cervello. Fire. Mario Pio e Franchino. Event stage. Disco Agropoli d'Italia. Progresso. Fire. Mario Pio. Fire. Mario Pio e Franchino. Un altro amico. Ogni tanto è finito anche questo anno. È finita una stagione di musica. Comunque l'inzogna rimane sempre una disco Agropoli d'Italia. La speciale console che è curato tutto l'inverno e tutta la primavera, la TV Stage, Luca Power, Mario Pio di Chirerua e Franchino. Volevo ricordarvi la patchwork place curata da Joichi di Conti, Sandro Vivo, Tenzighi, Il Giulare. Questa non è una discoteca. È una disco Agropoli. Come saltuariamente speciali ospiti come Mauro Picotto, Reddy De Guerco e altri artisti vari che sono capitati nella TV Stage. Oggi abbiamo anche le mosche. Oggi abbiamo anche le mosche. Questa è l'inzogna. Oggi abbiamo anche le mosche. Oggi abbiamo anche le mosche. Oggi abbiamo anche le mosche. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.